La struttura Johnson è una struttura dal punto di vista supply chain cambiata negli ultimi direi tre anni, quindi prima la funzione della supply chain e della logistica rispondeva direttamente al direttore generale del paese, quindi era una funzione locale, ad oggi è diventata una funzione internazionale, quindi c'è un responsabile europeo IMIA adesso della supply chain così come c'è un responsabile europeo del proda supply. Il proda supply era un po' più internazionalizzato già negli ultimi anni, la supply chain no, era estremamente locale, quindi questo ci ha permesso sicuramente di avere certamente un'ottica un pochino più allargata, di utilizzare esperienze internazionali un pochino più, quindi anche nel proprio campo E sono i confronti internazionali che ti affascinano di più? Beh certamente il lato, diciamo, se vediamo il lato supply chain di rivolta al cliente, diciamo che i mercati, cioè Johnson come tutte le aziende internazionali fatica ad essere uguali in ogni paese proprio perché si confronta con un trade diversificato da paese a paese. La logistica, ma anche in Italia, vista anche dal nostro top management era il trasporto, quindi la logistica doveva prendere, era al servizio delle vendite, quindi le vendite vendono e tu devi trasportarmi il materiale dal punto A al punto B, come si diceva. Fortunatamente negli ultimi direi due anni non è più tanto così, ma anche perché onestamente io ho visto da parte di alcuni clienti un'apertura maggiore all'area, alla collaborazione a livello supply chain. Devo dire che il tavolo di lavoro è più facilitato dal fatto che la supply chain del produttore e la supply chain del distributore non hanno gli stessi rapporti di tensione che hanno i buyer con il commerciale, è ovvio. È anche mentalità e poi certamente ci si confronta su dei fronti un pochino diversi. La logica, sedersi al tavolo di supply chain produttore e distributore c'è già più un'ottica di collaborazione a prescindere. La collaborazione col cliente è veramente fondamentale, anche perché soprattutto in questi contesti economici è estremamente difficile. È chiaro che il rapporto, come si diceva prima, il cliente ha una marginalità sempre più bassa che chiede al produttore di coprire. Questo rapporto supply chain commerciale è un rapporto che viene più facilitato magari in alcuni paesi piuttosto che altri, io parlo del mondo Johnson, per una diversa cultura e poi non è tanto il discorso di funzioni ma torno al concetto di persone. Le persone fanno comunque sempre la differenza. Quindi il punto è una supply chain che si deve però prendere anche il suo territorio e dire vabbè ma io devo rendermi, devo dimostrare che sono affidabile al mio cliente interno che può essere il commerciale. E qui estrapolo poi due punti che io ritengo che sono stati abbastanza, due esempi, esatto. Dall'altra parte un commerciale recettivo e quindi un po' illuminato e che comprende che la supply chain può di fatto giocare un ruolo chiave nella relazione con il cliente. L'esempio che cito è più in relazione, con Carrefour abbiamo avuto modo di ampliarla anche perché è sicuramente il cliente dal lato supply chain più complicato, non solo dal lato supply chain ma certamente uno dei più complicati. Però diciamo che noi siamo sempre stati molto attivi a livello IDI, con i nostri clienti abbiamo sempre investito molto, siamo stati tra i primi quando Carrefour ha chiesto di entrare in, lui lo chiama Just in Time, non lo chiamiamo VMI eccetera, siamo stati tra i primi ad essere attivi. Siamo stati forzati da Carrefour ma poi questo è diventato in realtà un qualcosa che ci ha qualificato come supply chain italiano, sul quale io ho investito molto, siamo attivi anche con Ocean e con PAM. Diciamo che questo progetti Carrefour ha aperto lo slot booking, noi siamo stati tra i fornitori test e siamo attivi anche con lo slot booking che poi ha forzato tu, quindi alla fine è una forzatura. Però il fatto di essere, come posso dire, di avere anche un piano di loro strategia e di cercare di non essere, di aderire, chiaramente con i dovuti paletti e senza dire eccetera, ci ha consentito in un certo senso di essere considerati tra i fornitori a loro preferiti.